Nel corso del capitolo precedente hai visto come è possibile inserire un gene addizionale dentro un batterio. È ugualmente possibile modificare geneticamente le piante e gli animali. Un gene umano può essere inserito dentro il DNA di un topo, è così che i topi transgenici sono prodotti. Essi portano quindi il gene addizionale in tutte le loro cellule. Così si può studiare la funzione di una certa proteina in un organismo pluricellulare. Se, per esempio, si introduce un gene cancerogeno, il topo servirà quindi da modello di studio per quella malattia, oppure da modello per testare l'effetto di diversi farmaci. Se l'animale guarisce significa che il farmaco funziona. Come si può modificare geneticamente un topo? Per mezzo di un ago, l'ingegnere genetico inietta il DNA contenente il gene di interesse dentro un ovulo fecondato di topo. In alcuni casi, il DNA iniettato si inserirà nel DNA del topo. Le cellule così modificate si dividono e formano un embrione pluricellulare. Diversi embrioni sono poi introdotti dentro l'utero di un topo. Tre settimane più tardi nascono i topolini, una parte dei quali sono portatori di un gene addizionale. Per saperne di più sulla funzione di una proteina, delle volte è necessario spegnere un gene in un topo o di rimpiazzarlo con una copia modificata. Si parla allora rispettivamente di topi knock-out e knock-in. Grazie. Grazie.